E' appena conclusa quella che è l'ottava chiama, così detta tecnicamente, appunto la votazione per eleggere il Presidente della Repubblica, il tredicesimo Presidente della Repubblica italiana. Sapete bene che sono state ore concitate, durante le quali i partiti hanno definitivamente confermato la loro volontà di riavere come Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo stesso Presidente ha confessato di aver riflettuto molto la notte scorsa, ha detto sì per la stabilità del Paese, ho troppo rispetto per il Parlamento, farò del mio meglio. Così Sergio Mattarella, appunto dopo una notte di riflessione, ha accettato il BIS e lo fa, continua la nota per quel senso di rispetto verso le istituzioni che ha caratterizzato tutto il suo settennato. Alle nostre spalle vedete siamo proprio a Montecitorio e appena concluso quasi lo scrutinio che decreterà quello che poi sarà il nuovo Presidente della Repubblica.